La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'inchiesta sulla presunta compravendita di petrolio tra la Russia e l'Italia che, secondo gli investigatori, sarebbe servita a creare un finanziamento illecito da 65 milioni di dollari per le casse della Lega e permettere così al partito di Matteo Salvini di affrontare la campagna elettorale per le elezioni europee del 2019. La richiesta di archiviazione riguarda Gianluca Savoini, fondatore dell'Associazione Lombardia-Russia e in passato molto vicino a Salvini, l'avvocato d'affari Gianluca Miranda e l'ex bancario Francesco Vannucci, indagati per corruzione internazionale. Secondo i PM milanesi, però, la trattativa non era andata a buon fine, ma, durante le indagini, dai cellulari dei tre indagati è emersa la fotografia di un appunto scritto a mano con i dettagli dell'accordo. Alla Lega sarebbe andato il 4%, agli intermediari russi il 6%, non certo spiccioli davanti a una partita di petrolio da un miliardo e mezzo dei dollari.